Allora, mister Gentile, imbattuto prima di venire qui allo Stefano Rizzo, non avete subito gol nelle ultime tre uscite, oggi invece è arrivata la sconfitta e quattro gol subiti. Sì, una sconfitta alla fine meritata perché non siamo stati bravi a tenere il campo, specialmente sapevamo le loro ripartenze e abbiamo concesso un po' troppo, anche se all'inizio abbiamo avuto una palla gol subito e la partita sarebbe potuta cambiare. Poi l'arbitro ha deciso di dare un rigore due metri fuori aria, non lo so il guardaline cosa guardava, certo, non lo da togliere, lo se ne sa meritato, però un vantaggio di un rigore nel primo tempo c'è un pochettino. Però c'erano state le proteste in precedenza per un altro rigore non concesso, voi come l'avete visto? Quello là non dico la verità, dice forse un fallo di mano sul rimballo, però lo dico perché l'ho visto bene, il rigore era almeno due metri fuori quello che ha concesso, però poi penso che la rossinesa oggi ha meritato rispetto a noi, perché noi abbiamo creato qualcosa ma non siamo stati cattivi sotto porta, forse il parziale di 4-0 è un po' pesante perché meritavamo almeno un paio di segnature, le potevamo pure noi fare. Vittoria sul Praia, aggancio in classifica, recuperati due punti al Belvedere, doppietta per te. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più oggi, di questa? Il risultato della rossanese, la vittoria. Abbiamo lavorato bene in queste settimane, si vede che la squadra è compatta, ha trovato un sistema di gioco, si gioca a calcio, si creano tante occasioni, ci si sprecano, ma la maggior parte poi vengono finalizzate perché lì davanti abbiamo giocatori importanti come Diaco, Buongiorno e Zangaro che in queste categorie secondo me sono un lusso, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo raggiunto un risultato importante, poi per quello che fanno gli avversari lo vediamo in un secondo momento. Allora mister ti aspettavi un successo però forse non così rotonto? Abbiamo preparato la partita per fare la partita perfetta come d'altronde avevamo fatto in casa contro il Cassano, pensavo che la mia squadra riusciva a stare attenta perché era un avversario abbastanza ostico, io ho chiesto maggiormente l'attenzione che poi alla fine noi siamo una squadra che riusciamo a creare tanto, quindi mi è stata data questa attenzione giusta, è stata messa la partita sui binari giusti e alla fine ci siamo arrotondati questo risultato. Una macchina da gol, 12 redi nelle ultime tre uscite? Sì hai detto bene 12 redi nelle ultime tre partite di campionato, finalmente lo possiamo dire oggi non abbiamo subito gol perché è peccato, nonostante c'è da precisare che il nostro portiere ha fatto due o tre interventi veramente da veterano, nonostante un 2002, però tutto sommato è stata una partita che l'abbiamo controllata tranquillamente dall'inizio alla fine, abbiamo sciupato anche qualche occasione con il palo di Carrozzi e il palo di Diaco, poteva essere ancora più rotondo, però va bene così, abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, l'ho detto anche prima della partita che era la squadra più organizzata che riusciva a tenere bene il campo, così è stato, poi alla fine è arrivata questa vittoria per noi, ce la teniamo.